Ben trovati, buon anno a tutti. Cambia la data, il 2019 che sostituisce il 2018, ma non cambia l'intonazione legata al mondo bancario, perché negli anni scorsi abbiamo avuto tutta una serie di vicissitudini su tante banche nel nostro Paese e riapriamo quest'anno con un'altra vicissitudine, con un altro salvataggio di un'altra banca. Speriamo sia l'ultimo necessario, naturalmente di questo parleremo quest'oggi con Stefano Righi, giornalista del Corriere della Sera, grazie per essere qui con noi, esperto di banche, grazie a te per essere qui. Prima di cominciare la disamina di quello che è successo con Carige e poi di analizzare un pochino più dettagliatamente con te quello che sta avvenendo al sistema bancario italiano, vediamo questo servizio che ha preparato la nostra redazione e poi ne parleremo con te. Il governo ha deciso di salvare Banca Carige. Con un decreto è stato stabilito che lo Stato garantirà le nuove emissioni di obbligazioni e interverrà direttamente nel capitale se dovesse essere necessario. Il provvedimento è arrivato dopo che la BCE aveva commissariato l'istituto ed era stato sospeso il titolo in borsa. Quale sarà ora il futuro di Carige? Nei prossimi giorni i commissari straordinari si siederanno al tavolo con i rappresentanti del fondo interbancario per strappare condizioni migliori per il rimborso del bond da 320 milioni emesso a fine novembre per ripagare le perdite accumulate nell'ultimo trimestre 2018. Poi si cercherà una banca disponibile per una fusione e per incorporazione e tra i vari nomi che stanno circolando spicca quello di Unicredit. Un'altra spina nel fianco è come recuperare i 2,8 miliardi di crediti in sofferenza. I vertici della banca si sono già mossi a riguardo incontrando Alessandro Rivera, presidente di SGA, la società del tesoro specializzata nel recupero delle sofferenze. Se il buongiorno si vede dal mattino, il cielo all'orizzonte sembra schiarirsi, anche perché il nuovo decreto consentirà di perseguire in piena sicurezza il processo di consolidamento patrimoniale e di rilancio delle attività. Bene Stefano, con Carigia siamo a quota 7 praticamente. Dopo le 4 di fine 2015, inizio 2016 e le 2 venete siamo andati in Liguria a sistemare un po' i conti bancari. Era necessario per salvare soprattutto i risparmiatori? Assolutamente, era un'operazione necessaria perché l'incertezza uccide. Uccide la presenza sui mercati e il titolo di Carigia è sceso a 15 millesimi di Euro, 0,015. Prima del salvataggio Carigia si comprava con meno di 100 milioni? Sì, oggi l'ultima valutazione la dà 80 milioni. Se consideri che nel dicembre del 2017 è stato realizzato un aumento di capitale da 540 milioni e che nel giugno scorso si è venduto un palazzo nel centro di Milano di proprietà della banca per 107, c'è da chiedersi dove sono finiti quei soldi. Ecco, la domanda che però si fanno molti cittadini e molti risparmiatori, anche molti azionisti, non si poteva intervenire prima? Cioè è stata una sorta di stillicidio perché era da qualche mese, se non da un paio d'anni, che si parlava dei problemi della Banca Ligure? Sì, si doveva intervenire prima. I problemi di Carigia risalgono al 2008, un aumento di capitale da un miliardo. E quasi quella la data, maginò, per tante banche, no? Assolutamente, assolutamente. E lì venne sottoscritto un aumento di capitale utilizzato sostanzialmente per comprare sportelli di altre banche a prezzi folli e non capendo che il mondo stava cambiando. Quello che successe anche con Montepaschi per quanto riguardava. Con Montepaschi e con tante altre banche, per cui era necessario intervenire prima, però poi lì è cambiata la proprietà e sono cambiati negli ultimi 4 anni 4 volte il capo azienda e questo non dà continuità. Una cosa importante, un segnale importante dall'altra parte, da parte del sistema bancario italiano, che il salvataggio è avvenuto grazie al sistema bancario italiano, perché i 320 milioni di cui si è parlato nel servizio per l'aumento di capitale o per l'emissione di questo titolo obbligazionario sono arrivati proprio dalla condivisione dell'intento di salvezza da parte di tutte le altre banche italiane. Assolutamente sì. Consideriamo che le altre banche, le banche sane del sistema italiano, e ce ne sono molte, molte sono solide, sono ottime attrici sul mercato del credito, hanno impiegato negli ultimi 4 anni qualcosa come 12 miliardi per salvare. Perché sono intervenuti nelle 4 banche, nelle 2 Venete, per cui... Sì, è un conto importante, se consideri che è una sorta di cooperativa volontaria questa delle altre banche, hanno messo 12 miliardi in 4 anni. Anche perché poi dobbiamo considerare il fatto che le altre banche potrebbero essere cointeressate alla sparizione di altri istituti, perché ci sono comunque clienti, quindi l'attenzione è ancora più forte. Certo, è vero quello che dici tu, però è anche vero che c'è un interesse superiore nel segmento del credito che è quello della fiducia del risparmiatore. Noi abbiamo fiducia nelle banche perché rappresentano un cardine nel nostro sistema economico e se viene meno la fiducia, ed è questo il motivo per cui i potenziali concorrenti intervengono volentieri, viene meno il mercato. In queste ore si parla anche di banche tedesche, però in forte difficoltà, c'è stato un intervento importante anche in Germania. Beh, contrariamente a quello che molti credono, la Germania è un sistema bancario tutt'altro che solido, Deutsche Bank ha avuto grandissimi problemi, Commerce Bank ugualmente e nessuno sa esattamente la dimensione della solidità di tutta la rete delle banche piccole e popolari che governano nei fatti l'economia tedesca, per cui l'Italia non sta bene ma anche gli altri hanno qualche pensiero. La differenza però è anche normativa perché la Germania entrando nel capitale sociale ha nazionalizzato molte banche nel periodo post Lehman e quindi può entrare in caso di salvataggio come azionista diretto nell'operazione di salvataggio delle banche, cosa che in Italia non può avvenire. Ecco, questa legge sul bail-in funziona, non funziona, viene applicata, non viene applicata, il sentiment da parte tua che poi descrivi il mondo bancario da tanti anni? Allora, la legge c'è ed è stata pensata in una certa maniera, per fortuna non è mai stata applicata perché appunto il ricorso alla normativa che prevede il bail-in sostanzialmente al salvataggio in carico agli azionisti, agli obbligazionisti, se non arriviamo a quel punto lì è meglio per tutti. Anche se in qualche modo azionisti e obbligazionisti di queste banche che sono in qualche modo state salvate o riconvertite hanno avuto danni di poco conto sui loro saldi. Se consideriamo i due casi dell'ex Popolari Venete, solo lì il danno per gli azionisti è attorno ai 16-17 miliardi di euro, una platea di circa 200 mila cittadini dell'area. Quindi è inciso notevolmente su quella zona. Purtroppo. Però dicevi giustamente per fortuna il bail-in non è stato mai applicato. Per fortuna perché comunque è un principio che scinde la proprietà pubblica dalla proprietà privata, quindi il salvataggio deve essere effettuato a carico e a spese degli azionisti della banca e successivamente degli obbligazionisti. Questo per evitare che qualche malintenzionato faccia cattivi affari con una banca e noi tutti, comunità che paga le tasse, si trovi a rimediare i suoi guai. Quindi questo è il principio cardine su cui credo tutti noi ci troviamo d'accordo, per cui ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni. Facciamo un attimo la fotografia del sistema bancario italiano con questo servizio che ha fatto per noi Sara Bergonzini e poi torniamo in studio. Questo nuovo anno comincia un po' come si era chiuso il precedente, con il sistema bancario italiano che continua ad essere sulle prime pagine dei giornali. Se la promozione dei quattro migliori istituti di credito italiani decretata dall'autorità bancaria europea a seguito degli stress test di novembre aveva in qualche modo attestato la capacità di tenuta delle banche italiane, almeno di quelle sotto esame, la cronaca degli ultimi giorni torna a mettere in luce i punti di debolezza che ancora rischiano di minarne la stabilità. Se pensiamo che ogni volta che il divario BTP Bund aumenta di 100 punti, le prime 10 banche italiane arrivano a perdere circa 3 miliardi e mezzo in termini di valore di titoli di Stato che hanno in portafoglio e se ricordiamo quanto sia stato caldo l'autunno per lo spread, capiamo quanto il risultato dell'esame di novembre sia stato significativo. Eppure i nodi da sciogliere non mancano. Si profila la necessità di raccogliere fondi per oltre 100 miliardi di euro per quanto riguarda le prime 7 banche italiane, le quali avranno quest'anno più di 45 miliardi di obbligazioni in scadenza e nel 2020 scadranno anche i finanziamenti BCE. E poi si aggiunge la questione di come innalzare i requisiti di capitale per poter continuare a erogare prestiti a famiglie e imprese e di come essere in linea con la rivoluzione digitale. Insomma, riuscirà il sistema bancario italiano, fatto anche di piccole BCC o istituti cooperativi, a sostenere prima di tutto se stesso e poi l'economia reale in modo efficiente? E soprattutto riuscirà a farlo senza che a pagare siano sempre i risparmiatori? Bene, tante domande nel servizio, un'analisi abbastanza dettagliata. Le stesse domande le rivolgo a te, c'è un momento di trasformazione molto forte. La tua percezione, tu hai già raccontato come c'è una parte molto sana del sistema bancario italiano, ma c'è da affrontare un momento abbastanza complesso. Come ne stanno uscendo le banche italiane? Allora, ci sono alcune banche molto solide, alcune di queste sono protagoniste anche a livello europeo, quindi sono tra le più importanti del continente. Purtroppo stiamo pagando il conto finale di dieci anni nei quali non siamo stati molto attenti, in cui sia all'interno delle banche per problemi di governance, sia a livello di sistema, e penso ad alcuni episodi in cui anche il regolatore è sembrato distratto, da MPS alle popolari veneti di cui parlavamo prima, alle quattro banche, alla stessa carige. Tutti questi episodi vengono al dunque, quindi stiamo pagando la disattenzione del passato. Per fortuna ci sono banche molto solide e sono queste che continuano a dare l'infa all'economia italiana, alle aziende italiane, che sono tante, non grandissime, ma proprio per questo bisogno di continua attenzione dal punto di vista del credito. Però ti faccio una domanda da risparmiatore. È il caso che i risparmiatori continuino a tenere d'occhio i parametri di solidità delle banche nel momento in cui scelgono la banca a cui affidare i propri risparmi? Direi di sì, questa è una delle lezioni, anche dei portati della legge sull'Abelin, quindi non c'è più lo stellone che viene a salvarci nottetempo, dobbiamo essere molto più consci, dobbiamo sapere dove mettiamo i nostri soldi e dove mettiamo i nostri risparmi, sapere a che banca affidiamo il nostro denaro è fondamentale. È importante, credo, che il risparmiatore italiano realizza un momento di crescita personale. L'Italia è storicamente una dei maggiori produttori al mondo di risparmio, siamo sempre al vertice noi e il Giappone. Purtroppo a fronte di questa grande capacità di creare risparmio abbiamo una conoscenza dei mercati finanziari che è un'indagine di World Bank che ci pone tra il Togo e il Mali, quindi questa è una cosa che stona. Ci hanno spostato geograficamente. Abbastanza e se consideri che noi continuiamo ad essere la seconda manifattura d'Europa e il settimo paese industrializzato al mondo, dobbiamo colmare quella lacuna. Questo gap, quantomeno dobbiamo saper scegliere i parametri di solidità delle banche a cui affidiamo i nostri soldi, anche perché come tu saprai sicuramente la stragrande maggioranza, un terzo dei risparmi degli italiani in questo momento è sui conti correnti. Assolutamente, anche questa è una distorsione, un'occasione persa per tutti noi. Tu prima hai parlato di un aspetto molto importante, l'ha trattato anche marginalmente il servizio che abbiamo appena visto, cioè l'impatto della rivoluzione digitale. Tra l'altro sei appena uscito insieme alla tua collega Annalisa Caccavale con questo libro che si intitola Banca Tech, in cui fai una serie di interviste ai banchieri più importanti del nostro Paese, proprio in virtù degli impatti dello sviluppo tecnologico sul sistema bancario italiano. Ecco, è la tempesta perfetta? Ahimè sì, perché a tutte le cose che ci siamo detti finora si aggiunge il fatto che nessuno va più in banca e quindi l'accesso ai servizi finanziari per la gran parte delle occasioni viene realizzata attraverso lo smartphone, il pc, il tablet, tutte queste cose che un tempo non c'erano. Dicevamo prima che Carige spese gran parte di quel miliardo dell'aumento di capitale di dieci anni fa per realizzare acquisizioni sportelli che oggi vengono, nella migliore ipotesi, chiusi e quindi quelli sono soldi finiti in fumo. Oggi è molto più importante avere un sito capace di gestire le richieste della clientela che avevano lo sportello. E ancora di più le app sul cellulare perché lo smartphone sta superando di impatti e di numeri di accessi e addirittura il pc, no? Assolutamente, credo che il sorpasso sia già avvenuto, per cui è una rivoluzione importantissima che avrà degli effetti immediati, molto rapidi. Ecco, forse non è una rivoluzione perché è il momento conclusivo di un processo di trasformazione che è iniziato, credo posso datarlo 50 anni fa, con i primi Bancomat. È un momento di trasformazione che però va a toccare un sistema che gioco forza in alcuni casi deve mantenere ancora tanta tradizionalità, soprattutto per quella clientela di fascia più avanti con l'età che è abituata a certi sistemi e meno ad altri. E quindi sono dei costi in più che bisogna sopportare. Sì, sono dei costi che vanno sopportati perché necessariamente la clientela più avanti con l'età, come dicevi tu, è anche quella che ha generalmente maggior disponibilità. Ha esigenze diverse da chi inizia il proprio percorso di clienti in una banca, che magari pensa al massimo come acquistare una casa e quindi guarda un mutuo, ma le persone di maggior età hanno maggiore disponibilità, quindi sono più appetibili per la banca. Ecco, qui è importante il rapporto che si viene a creare tra cliente e istituto bancario attraverso gli addetti alle relazioni perché, come dicevamo prima, la fiducia è fondamentale in questo settore. Ed è un settore, quello della tecnologia, che tocca molto anche chi lavora nell'ambito bancario. Ho letto qualche giorno fa di quello che è successo in Belgio, la riconversione di molti operatori bancari addirittura in altre strutture che nulla hanno a che vedere con il mondo bancario, addirittura nel settore infermieristico e in altri ambiti. Si è arrivati a tal punto? Cioè nel senso che la riconversione delle professionalità debba portare in altri settori i professionisti? Io starei molto attento a farmi fare un'iniezione da un bancario. Senza nulla toglie, magari c'è qualcuno che li sa fare. Se posso scegliere vado da un'altra parte. Questo è successo in Belgio, in Italia ancora no, anche perché abbiamo un arretrato di NPL, cioè di prestiti non andati a buon fine da trattare. Quindi la tendenza che si vede oggi in Italia è quella di destinare parte di questa popolazione bancaria che ha raggiunto le 330 mila unità in anni recenti, quindi un numero rilevantissimo, a fare misteri adiacenti e quindi a trattare gli NPL e tutti i crediti irrisoluti. Però come giustamente dicevi un attimo fa, la stortura di avere tante masse di risparmio sui conti correnti presuppone che in questo Paese ci voglia una qualità della consulenza che forse non è così forte e così sviluppata. Ci sono le reti di consulenti finanziari, poi bisognerebbe aggredire in termini professionalmente corretti questo risparmio per portarlo verso quel valore, verso quei progetti di crescita che dovrebbe in qualche modo esaurire. Assolutamente sì, pochissime banche hanno capito questo, anche se adesso tutti sembrano aver capito che questa può essere una strada. Uno degli esempi che vanno in questo senso è quello dei PR che sono nati un paio d'anni fa e che rappresentano un'idea bellissima perché permettono di veicolare il risparmio, quella grande quantità di denaro presente nei conti correnti, verso le imprese produttive del Paese, quindi generando ricchezza e occupazione che sono due dei parametri più importanti nel valutare un'economia. Siamo in chiusura Stefano, anche se con te saremo a chiacchierare almeno un'altra oretta. Nelle tante interviste che hai fatto in questo libro, I banchieri più importanti di questo Paese, la tua percezione, senza entrare nei meriti perché poi naturalmente l'andate a leggere all'interno del libro stesso, però la tua percezione, la tua sensazione, sono pronti i banchieri italiani ad affrontare anche questa rivoluzione che è quella tecnologica? Non tutti, non tutti, credo che però larga parte sì e soprattutto i nomi meno ricorrenti hanno dimostrato un'attenzione al settore, quindi al cambiamento in atto davvero importante, soprattutto coloro i quali guardano più ai giovani che sono i consumatori e i clienti dei prossimi anni. Chiudo con una battuta a cui vorrei che mi rispondessi, una delle cose che leggo nella quarta di copertina è, una cosa è certa, se le banche sopravviveranno saranno molto diverse da come le abbiamo conosciute, tu come te le immagini? Vuote, ovvero sia noi siamo abituati a pensare all'agenzia bancaria e questa diventerà una cosa diversa, sarà un punto di consulenza credo e saremmo molto più attenti, come probabilmente qualcuno di noi già è, a tutto quello che vediamo nello schermo del tablet, del pc o del nostro smartphone che alla fine teniamo in tasca e guardiamo con sempre maggior frequenza. Ma ci saranno ancora i consulenti in carne e ossa o tu prevedi? Assolutamente sì, perché sarà necessario mixare la grande quantità di dati che vengono prodotti e che sono disponibili a tutti con la professionalità e la capacità delle persone che vivono queste realtà consulenziali e alle quali bisogna legarsi da un rapporto di fiducia dal quale non si può prescindere. Grazie Stefano Righi per averci accompagnato, giornalista del Corriere della Sera, vi ricordo il tuo libro Banca Tech, naturalmente per chi vuole capire che cosa sta succedendo nel mondo bancario qui c'è la via voce di chi la banca la fa nel nostro paese. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana nella speranza che siate sempre tanti a seguirci. Buona serata, arrivederci. Buona serata a voi, grazie.